Salve gente! Hey hey! Io sono Nels! Sono il cantante di una band che si chiama Rovere e sono membro del team di Space Valley, un talk show spara laser su YouTube. Nel tempo libero sono un nerd tendente alla pigrizia, ma insieme a voi provo anche a fare cose. Benvenuti in un nuovo Q&A. Intanto bentornati sul canale, l'estate è finita, si riparte. Oh yeah! Prima dell'estate ho raccolto un po' delle vostre domande a tema lavoro, come funziona il mio lavoro, come funziona YouTube, e sono quindi pronto oggi a rispondere a tutte le vostre curiosità che magari avete sviluppato negli anni. Magari semplicemente volete sapere di più su come funziona questo mondo, anche magari quello della musica, adesso vediamo che cosa mi avete chiesto, o magari siete proprio interessati non solo a colmare le vostre lacune di conoscenza riguardo questo lavoro per pura cultura, ma magari state pensando di intraprendere questo percorso. Ve lo sconsiglio. Chiaramente sto scherzando, sono sul telefono pieno delle vostre domande, me ne avete fatte veramente tantissime, perché comunque sono cose a cui probabilmente non ho mai risposto. Mi avete sempre fatto domande del genere, magari alcune mi sono arrivate e ho dato una risposta, ma tantissime altre sicuramente no. E non ho mai avuto modo e spazio per affrontare questo discorso. Quindi, questo è il giorno, questo è il momento, sono pronto. Intanto abbiamo utilizzato questa telecamera per il videoclip di Rovere, e mi hanno smarmellato tutte le impostazioni e non capisco se sto filmando giusto. Cos'è sta roba qui sullo schermo? Non capisco, aspetta. Boh, come diremmo a Bologna abbiamo ciappinato un po' troppa roba qua. Direi di partire subito con le domande. Allora, qual è stato l'evento che ti ha fatto capire che quello di YouTube sarebbe potuto essere il tuo lavoro? Sinceramente, a ripensarci, non c'è stato un evento particolare. Diciamo che quando ho iniziato a fare YouTube insieme ai miei amici, con Relative, il nostro primo canale, non era un periodo in cui YouTube poteva essere un lavoro. I soldi che giravano erano molto pochi, le aziende non investivano, e la stessa monetizzazione dei video, non so se sapete come funziona, però le varie pubblicità automatiche, diciamo, non ti faceva fruttare granché. Cioè, in tutto quel periodo, in tutto il periodo di Relative, di soldi, non dico che ne abbiamo visti zero, ma quasi. Però non è mai stata una mia grande preoccupazione, una nostra grande preoccupazione. Comunque, eravamo giovani, avevamo le spalle abbastanza coperte, e quindi ci potevamo permettere di fare quello che ci piaceva fare. Infatti, nel frattempo, studiavamo anche, perché studiando magari saremmo arrivati al nostro vero lavoro. Solo che, cosa è successo? A un certo punto, insieme alla crescita della nostra carriera YouTubica, che non è mai stata appunto proiettata ai soldi o al lavoro, ma soltanto al fare qualcosa che ci piaceva, qualcosa che ci divertiva, come hobby, un hobby veramente molto impegnativo a livello di tempo, ma pur sempre un hobby, a un certo punto YouTube è cambiato. È cambiato in corsa. E ci siamo ritrovati, praticamente, a poterlo definire un lavoro. Ci siamo imbattuti nel fatto che, ok, se ci impegniamo, possiamo anche guadagnarci, possiamo anche camparci. Quindi, se ti devo dire, il momento in cui ho capito che sarebbe stato un lavoro, è stato quando abbiamo visto i primi soldini, seppur pochi erano i primi soldini. Però nella nostra testa era già il nostro obiettivo principale, quello di fare YouTube. Pur non sapendo come guadagnare, però ci piaceva molto. Da subito proprio. Non hai paura di quando sarai vecchio? La vecchiaia, parliamoci chiaro, è una delle mie paure più grandi. Cioè, a volte mi blocco e penso, oh mamma, a un certo punto sarò vecchio, spero di rimanere il più tempo possibile autosufficiente. Non è tanto la vecchiaia in sé, ma è la non autosufficienza che mi spaventa. E mi viene sempre un po' proprio di panico. Credo però tu me lo stia chiedendo da un punto di vista lavorativo. E tantissimi miei colleghi sono un po' spaventati dal futuro. Cosa faremo quando saremo vecchi? Cosa faremo se non ci seguirà più la gente? Cosa faremo se chiuderà l'internet? Tutte queste cose qua. E molti agiscono un po' in anticipo, iniziando da prima possibile a crearsi un po' di risparmi, un fondo, per poter essere coperti a lungo. Ecco, questa forse è la cosa più intelligente da fare, non è la cosa che faccio io. Ma in generale, un po' tutti noi, non siamo preoccupati da questa cosa. Cioè, sarà quel che sarà. Ci divertiamo finché ci divertiamo, facciamo finché facciamo, andiamo avanti finché si può andare avanti, e poi vedremo. Sono molto spaventato dalla vecchiaia, ma non ci penso troppo da un punto di vista youtubico e lavorativo. Penso che comunque le basi solide per potersi reinventare, c'è anche la musica, eccetera, ci siano. E se mi dovessi mettere per come sono fatto io a pensare a cosa succederà, mi bloccherei e mi verrebbe una gran ansia, obiettivamente. Quindi preferisco godermi il presente che aver paura del futuro. Magari andrà tutto bene, o magari no. Chissà. Quanto sei felice del tuo lavoro in questo momento? È da tanti anni che faccio YouTube, è da tanti anni ormai che faccio anche musica, e in generale sono sempre molto contento. Cioè, mi ritengo veramente fortunato di poter fare come mestiere una roba che mi piace, una roba che mi appassiona, e soprattutto una roba che non è partita come un lavoro, come dicevo prima. Quindi, avere tutte queste possibilità e non divertirmi nel fare questo lavoro sarebbe fuori di testa per me. Sicuramente bisogna prendere degli accorgimenti, sicuramente non tutti i periodi sono belli, ci sono tanti alti e bassi, ma come penso in qualsiasi carriera, e magari anche un pochino di più in una carriera creativa, dove devi sempre essere lì sul pezzo con la testa, pensare a cose nuove, metterti in gioco personalmente, anche con la faccia. Però, sono sicuramente molto di più gli alti. C'è Space Valley, c'è la musica, c'è il disco nuovo che sta uscendo, 11 case, i concerti, e c'è anche questo canale che mi piacerebbe, ve l'ho detto mille volte, far riuscire a far andare bene, così da essere ancora più felice. Però, sono molto felice, non sempre soddisfatto, non so se vi riesco a far percepire la differenza tra le cose, ma felice, senza dubbio, cioè non cambierai mai. Quanto tempo toglie la tua vita privata? Anche qua dipende dai periodi. Se siamo in mezzo alla scrittura del disco e devo far combaciare tutte le cose, tanto. Se c'è il tour, tanto. In periodi più di calma è abbastanza gestibile, va molto a periodi, poi va molto anche come mi sento io e quanto spingo. Anni fa c'erano dei periodi in cui magari avevo 20 minuti liberi al giorno in cui andavo in bagno. Poi a un certo punto ho cambiato cose, mi sono ritrovato con troppo tempo libero e adesso sono alla ricerca del giusto equilibrio tra lavoro, soddisfazione lavorativa e vita privata e soddisfazione di vita privata. E anche relax. Perché da un lato c'è il rischio di continuare a martellare troppo e andare in burnout. Dall'altro c'è il rischio di cazzeggiare. Questo è un lavoro che ti permette di cazzeggiare. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Però tanto, puoi fare le notti in qualsiasi lavoro. In tantissimi e sono rimasto abbastanza sorpreso mi avete fatto domande del genere. Chi mi ha chiesto se ho partita IVA, come guadagno, come funziona? Ad esempio, difficoltà nel farti seguire contabilmente dal momento che ho un mestiere nuovo, gestire tutto il burocratico del mio lavoro è parecchio complicato. La partita IVA fa paurissima. È difficile capire cosa fare, cosa non fare, quali sono le scadenze e stare dietro alle procedure necessarie per essere sempre in regola. Un servizio veramente super in Italia Fisco Zen che mi ha invitato a raccontarvi un po' come funziona. È un servizio online che ti offre un commercialista dedicato e una dashboard per gestire la tua partita IVA online. Rende tutte queste cose molto più semplici e sicure. Diciamo per riassumere che ti toglie di dosso l'ansia della partita IVA. Perché vi dico mette ansia. Con un'unica piattaforma riuscirete a stare dietro a tutto affiancati da un commercialista dedicato che vi supporterà nell'apertura della partita IVA e che vi farà anche la dichiarazione dei redditi. Dalla dashboard potrete poi emettere fatture elettroniche illimitate e in pochi click vedere la previsione delle tasse future da pagare. Che a me frega sempre. Tramite FiscoZen avrete la partita IVA sotto controllo. I servizi poi non finiscono qui. Avrete anche una chat di esperti che vi risponderanno in 5 minuti per ogni vostro dubbio. Vi invito quindi se siete interessati ad andare in descrizione dove trovate il link di FiscoZen tramite il quale potrete prenotare una consulenza fiscale gratuita e senza impegno. E se deciderete di affidarvi a loro avrete anche 50 euro di sconto sul primo anno. Così scoprirete che la partita IVA e i commercialisti non fanno paura. Anzi sono dei fedeli alleati. Hai mai avuto ansia da palcoscenico? Se sì come l'hai affrontata e superata? Ho avuto ansia da palcoscenico. In realtà la prima ansia da palcoscenico l'ho percepita non con Rover e la mia band non su un palco musicale ma su un palco parlato. Ero ospite a una fiera a Lecce se non sbaglio del fumetto e avevo da fare questo discorso sul palco rispondere a un po' di domande eccetera e lì è stato il primo momento in cui proprio mi sono un po' tremate le gambe mi si è seccata la gola e non sapevo cosa dire è stato abbastanza crudo. Lato musica invece sì il primo nostro concerto chi c'era si ricorderà fatemi sapere nei commenti l'ho fatto tutto con le mani in tasca per l'ansia tutto non era un concerto lungo perché aprivamo i pinguini saranno state 3-4 canzoni una cosa del genere ma l'ho fatte tutte con le mani in tasca avevo la prima fila che c'era una fan che mi continuava a dire Nelson togli le mani dalle tasche togli le mani dalle tasche e io non ce la facevo ero bloccatissimo e lì l'ho superata semplicemente con l'esperienza ma come all'inizio avevo ansia anche della telecamera adesso mi viene super naturale le cose nuove mettono ansia ed è molto bello per me cioè quando una cosa mi mette ansia vuol dire che mi interessa e vuol dire che l'affronterò nel migliore dei modi possibili è proprio una sensazione che sì è spiacevole sul momento ma in realtà mi piace molto quando qualcosa mi mette ansia è buono più o meno non sempre però lì facendo tanti concerti poi noi abbiamo avuto un po' un battesimo del fuoco perché siamo passati subito ad aprire i concerti dei pinguini quindi subito davanti a pubblici abbastanza massicci e o andava o andava ci hanno buttato in acqua e abbiamo imparato a nuotare è però stato molto graduale quindi non vi spaventate se avete ansia da palcoscenico a forza di farlo andrà via oltre a Space Valley fai qualcos'altro se sì cos'è se no cosa avresti fatto al posto di YouTube quindi qui sono due domande in una la prima domanda mi offende un po' vuol dire che non mi segui abbastanza oltre a Space Valley faccio video su questo canale e canto in una band che si chiama Rover ti rispondo comunque anche alla seconda al posto di YouTube ne ho parlato forse in qualche video fa io stavo studiando giurisprudenza poi ho cambiato sono andato a comunicazione quindi un po' più magari volto a cose creative non so dove mi avrebbe portato a fare cosa pubblicità boh non lo so però tornando indietro se dovessi ripartire da capo probabilmente mi piacerebbe capire perché non so come funziona come riuscire a entrare in un team di scrittura di serie TV quello mi piacerebbe molto c'è un obiettivo finale che hai già raggiunto o che vuoi raggiungere non per forza a livello economico a livello economico banalmente essere tranquillo penso che la serenità economica sia un po' l'obiettivo di tutti quelli che lavorano non dico diventare ricco la serenità invece obiettivi concreti di lavoro per esempio non li ho mai avuti cioè mi pongo sempre dei piccoli obiettivi riuscire a fare quello riuscire a fare quell'altro generalmente abbastanza concretizzabili quindi raggiungibili pian piano li smarco ma sono un po' la benzina che mi fa andare avanti ok punto a quella cosina lì facciamola grandi obiettivi quindi obiettivi finali non li ho mai avuti perché sempre per come sono fatto mi spaventerebbero un po' cioè avrei l'ansia magari prenderei anche delle decisioni sbagliate su determinate cose per raggiungere quell'obiettivo ho dei piccoli sogni ovviamente che non vi dirò perché poi non si realizzano però una giga roba no mi piace fare quello che faccio diciamo che l'obiettivo finale è continuare a divertirmi continuare a farmelo piacere e continuare a poterlo fare toh ma cose giga no perché avrei l'ansia e rimarrai deluso no 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 obiettivo no 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 grazie sei cresciuto più con rover o con space valley sono sicuramente cresciuto con tutte e due le cose in maniera diversa poi si fondono quello che imparo a fare grazie a rover lo butto dentro anche a space valley e quello che imparo a fare grazie a space valley lo butto dentro anche a rover e anche dentro ai vlog dentro un po' tutto sono sicuramente tutte scuole molto importanti per me su come fare le cose come non farle come pormi è tutto molto importante e tutto mi insegna qualcosa ti direi che sono cresciuto con entrambi allo stesso modo in maniera diversa con i ragazzi di space valley ormai siete amici o solo colleghi beh noi nasciamo prima di tutto come amici quindi siamo amici perché ci conoscevamo tutti in maniera più o meno diversa molto prima di space valley e abbiamo deciso di far space valley cosa fai esattamente ti do una dimostrazione pratica tra 3 2 1 questa è una domanda molto interessante ogni quanto vorresti mollare tutto io non sono un quittor ok non quitto però ogni tanto l'ho pensato vi parlo proprio col cuore in mano ogni tanto è faticoso non sono mai in realtà arrivato a pensare veramente ok mollo tutto diciamo che a volte per alcune cose in alcuni ambiti ho pensato ma chi me lo fa fare però poi si fermava lì pensiero molto rapido doloroso a volte ma che poi spariva quindi la risposta giusta è mai anche perché non saprei cosa fare se potessi fare sempre una delle cose che fai ora quale sarebbe? a questa cosa mi capita di rispondere spesso anche proprio dal vivo a persone che me lo chiedono tutto cioè io non riesco a vedere una delle cose che faccio senza le altre perché ogni cosa mi dà stimoli diversi riconoscimenti diversi emozioni diverse sfide diverse è tutto molto diverso e analizzando il mondo youtube senza la musica mi piacerebbe meno e analizzando il mondo musica senza youtube mi piacerebbe meno quindi ti direi tutte queste cose e non smetterei nulla non posso scegliere no veramente niente c'è tutto se un video vecchio diventa virale con milioni di visualizzazioni guadagni di più? beh sicuramente più visualizzazioni fai più guadagni se ci sono le pubblicità attive poi dipende da che tipo di video è di cosa parla quanto dura quante pubblicità ci sono dove sono messe quanto la gente le schippa se sono pubblicità lunghe o corte dipende veramente da un sacco di roba è voodoo io vi giuro che non ho mai capito nulla della monetizzazione youtube ma neanche i miei colleghi probabilmente neanche youtube stesso sa come funziona è tutto un grande mistero ogni tanto da un video guadagni tanti soldi ogni tanto no e non sai perché però sicuramente ci sono tantissime cose che influenzano anche banalmente il periodo ci sono dei periodi in cui si guadagna di più e dei periodi che si guadagna di meno a parità di visualizzazioni e poi qui ci sarebbe veramente un super discorso da fare e io non sono la persona giusta per farlo perché appunto non è una cosa a cui ho mai prestato troppa attenzione o più fatto che guardato come andavano le cose cioè spesso pubblico video non guardo neanche quante views fanno però sicuramente se un vecchio video parte virale c'ha le pubblicità giuste è dell'argomento giusto eccetera eh sì guadagni di più da dove arrivano i tuoi guadagni? space valley il tuo canale youtube o altro? allora senza scendere nei dettagli anche questo dipende molto dai periodi la benda è la cosa che mi fa guadagnare un po' meno poi dipende se c'è il tour o meno però lì siano tanti abbiamo tantissime spese è difficile lato youtube invece space valley mi dà una solida base e questo canale tutte le attivazioni di lavori nei miei profili mi danno un'altra solita base però quelli sono abbastanza per come gestisco io le cose purtroppo mi piacerebbe cambiare ed è il mio obiettivo questo sì forse è un obiettivo è un po' saltuario lì dipende dai periodi come ti sei appassionato a questo tipo di lavoro? mi sono appassionato a youtube mi sono appassionato alla musica perché l'ho sempre ascoltata tantissimo e a un certo punto questa storia l'ho raccontata mille volte quindi non mi dilungo mi sono ritrovato a cantare veramente per caso grazie a frank e non ce lo saremo mai aspettato ma è diventato un lavoro il me da piccolo non ci crederebbe mai lato youtube anche lì il me da piccolo un po' meno piccolo non ci crederebbe mai ma io ho iniziato a fare video appunto non per trasformarlo in un lavoro ma perché mi piaceva e mi sono appassionato perché ero già appassionato ho sempre guardato youtube dai tempi di Willwush proprio gli inizi sono sempre stato veramente ossessionato e addirittura quando ho compiuto i 18 anni per vari motivi non avevo più la tv e guardavo tutto il giorno solo youtube non c'erano ancora poi tutti i vari servizi di streaming e lì veramente mangiavo 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 del gran youtube e volevo farlo assolutamente tanto youtube america anche che mi ha sempre influenzato e mi ci sono ritrovato anche lì con gli amici i miei compagni di liceo ho detto rega proviamo a farlo anche noi e poi non mi ha più mollato più lo facevo più mi piaceva più c'erano impegni più mi piaceva e ho semplicemente seguito il flow senza mai mollare questa passione ti capita di desiderare di lavorare come dipendente in modo da avere meno sbatti e ogni tanto sì cioè questo è un pensiero che ogni tanto salta fuori poi io credo che anche i dipendenti abbiano sbatti però sicuramente magari l'impegno mentale che serve per riuscire a fare una cosa da soli la costanza sono un po' i miei nemici infatti funzionano meglio nelle realtà di gruppo che in quelle singole però penso che tutti noi a un certo punto abbiamo pensato almeno una volta ok sarebbe molto figo avere un lavoro da fare da quell'ora a quell'ora e poi ciao tanti saluti ci vediamo domani poi sei anche sicuramente più coperto parliamo appunto dell'ansia del futuro c'è un contratto sei dipendente poi sicuramente anche quello ha tanti contro e forse sono contro che non mi piacerebbero cioè ripeto a volte magari mi capita di pensare eh sarebbe figo se fosse così eh però alla fine no alla fine mi piace quello che faccio ci piace quello che facciamo quindi la risposta è sì ma un po' in gag si può dire che lavori come freelancer oppure hai qualche vincolo allora sono decisamente un freelancer ho dei vincoli emotivi tipo con Space Valley vincoli concreti li abbiamo solo lato musica perché ci sono i contratti con le etichette però anche lì non so se definirlo proprio un vincolo lavorativo non siamo dipendenti di nessuno insomma pensi che prima o poi mollerai la carriera YouTube per concentrarti meglio sul canto? no voglio fare tutte e due le cose al 100% come dicevo prima non vedo una cosa senza l'altra mi piacciono troppo tutte e due hai mai pensato di aprirti un'azienda o un'attività magari anche affina le tue passioni? sì questa è una cosa a cui penso spesso non ho la solidità economica per farlo però ho qualche idea che prima o poi mi piacerebbe concretizzare cose un po' più astratte e stupide e cose un po' meno astratte e molto inerenti alle mie passioni quindi vedremo non vi dico nulla perché non so se succederà non so quando succederà non voglio rovinare nulla quindi non vi dico niente però sì ho modo di farlo? no prima o poi lo farò? boh mi piacerebbe? sì qual è la parte del tuo lavoro che ti piace di meno? montare i video quando ricominci Twitch? mai però siamo tornati dall'estate quindi pian piano ripartiranno anche le live sul canale YouTube ogni tanto qualcuna speciale aperta a tutti e quelle un po' più costanti dedicate agli abbonati al canale come separi vita privata e lavoro? come decidi cosa rendere pubblico? allora inizialmente quando facevo soprattutto daily vlog vabbè sono arrivate anche le stories di Instagram che un po' hanno lo stesso problema ho fatto molta fatica a dividere privato da pubblico e son finito per condividere praticamente tutto quella cosa mi ha un po' fatto abituare e adesso non ho più grossi filtri cioè nulla della mia vita è segreto nulla mi preoccupa che diventi pubblico sono molto sereno sono clean si può far vedere tutto però sicuramente ci sono delle cose che senza neanche pensarci troppo in realtà abbastanza distinto finisco per tenere private e delle cose che invece distinto rendo pubbliche però non mi sono mai posto troppi problemi mi piace condividere quello che faccio quello che è la mia vita con voi cerco sempre comunque di avere rispetto per le altre persone e per tutte le situazioni quando devi spiegare a qualcuno cosa fai? di norma come reagiscono? bene? male? reagiscono sempre bene nel senso che il tipo di lavoro che faccio suscita un sacco di curiosità infatti siamo qui a parlarne adesso è anche molto facile spiegarlo cioè adesso a quasi chiunque di qualsiasi età se dico che vabbè canto in una band ok è facile ma se dico che faccio lo youtuber più o meno capiscono tutti e sono tutti appunto curiosi però anni fa soprattutto all'inizio era veramente un macello cioè noi avevamo iniziato a descrivere io parlo di noi non me le altre personalità ma i miei colleghi i miei amici e anni fa quando dovevamo descrivere cosa facevamo a un certo punto ci siamo ritrovati a dire che eravamo imprenditori digitali perché ogni volta che dicevamo lo youtuber il creator la gente non capiva niente poi nel tempo è diventato molto più comune molto più sentito anche da generazioni diverse dalla mia poi le domande arrivano sempre per capire di più e si risponde sempre volentieri perché effettivamente magari da fuori non è chiarissimo però almeno non dobbiamo più dire imprenditori digitali ma possiamo dire youtuber bene spero di aver risposto a tutte le vostre domande in realtà sono ben conscio di averne lasciate molte fuori ma erano tantissime magari ci ritroveremo a parlare di queste cose in futuro anche nei vlog se avete domande comunque fatele qui sotto nei commenti risponderò perché comunque sono curiosità che ci stanno e mi fa piacere anche parlarne noi ci vediamo con un prossimo video lasciate un bel mi piace qui sotto iscrivetevi al canale attivate la campanella ci vediamo anche su instagram ciao